Salve a tutti Blazers e benvenuti in un nuovo video in cui non si è capito una minchia in questa introduzione Bentornati in una Lucky Race assieme a Kenoya e a Madame Archie, ci sfideremo ancora Comunque siamo di nuovo su una Lucky Race e ancora una volta ci sfideremo Dove l'altra volta aveva perso Kenoya e aveva fatto una challenge Questa volta il perdente come challenge dovrà cambiare la foto profilo della sua pagina Facebook E metterne una imbarazzante Nei commenti scrivete hashtag KenoyaPuzza per suggerire altre challenge Non era questa l'hashtag No era così, era così, per ricordare la prima sfida che era Kenoya Non c'è un'altra challenge per i prossimi video insomma Via! Vai! Grande Perché c'era un cartello con scritto ErenPuzza tipo? Vabbè io muoio subito Leggitelo eh No raga io ero in cartella Ma ogni volta devo ripartire da qua ma cos'è? Devo ripartire da sotto Da'dah da'dah da'dah! Come l'altra volta Battute riciclatissime Ma porca puttana ZIO BANANA! Come Hungarian! ZIO PEV Va fastidio alla gente Dai stai fermo eh raga io sono Armatura di ferro Eren ti devo dare una brutta notizia Lì, non hai rotto il tuo lucky Cosoli Ma cosa ci fa un lucky cosoli? Eh, secondo te perché c'era il parkour Ah, che palle Minchia, Eren tutto convinto No, raga, mettiamoci lo spawn point qua, vi prego Dei fiori Fate quello che volete, mi metto lo spawn point qua davanti Io imbroglio tantissimo con i blocchi, non me ne frega niente Non piazzare blocchi, eh No, Eren, cosa stai facendo? Un sacco di blocchi La costruzione Ok, l'ho preso Cos'è una trappola? Sono in una trappola di ossidiana Raga, sto soffrendo Cos'è sta roba? Aiutatemi a città, sono un po' stidioso One shot Ma cos'è sta roba? Ah, ma c'è uno spawn point qua Beh, però è meglio che c'è di spawn point Io mi killo, ciao Perché? Ma forse cattroia, sono un uomo Diamanti No, ma adesso c'è il tuo mob in mezzo alle palle Che romperà il cazzo anche a me Eh, ora ti uccide Allora io ti rubo gli oggetti No, bastardo Eh, eh, eh Ahia Ok? Ok, scappo Però raga, devo chiedermi una cortesia No Perché non dallo spawn point qua? No Ah, che cazzo è successo? Eh, l'ho preso io quel coso lì Oddio, cosa sono tutti sti mob? Oddio Ma cos'è successo? Ma È colpa mia, ragazzi Ma che palle E mi hanno pure buttato giù Mettete il tag con il downfall, per favore, grazie Ma cos'è? Aiuto Perché c'è un magma cube là in cima? Cosa sta succedendo? L'avete visto il magma cube? Ma perché È tra le nuvole? Ma cos'è sto parkour? Ma dai, mi pigliate per il culo, ragazzi Io raga spacco i blocchi, mi frega un cazzo No, no, no E anche io, ma qua non si può fare No Ma qua non c'è la scala Ragazzi, non si può proseguire No, no, c'è È di lato Ah, lo devo rifare No, vabbè, facciamo che almeno un blocco si può spaccare, raga Almeno uno Eh, ovviamente a lui servirà un solo blocco da spaccare Eh, sì, è giustamente No, allora non facciamolo Non facciamolo Ma questo salto qui è impossibile No, interessa, fattelo Ah, ma ecco, infatti Basta morire per i mob degli altri A me manca una scala, raga No No, non sto facendo niente Ah, ma non Non te li droppa È arcilla di merda E son caduto ancora Ma non te ne frega un cazzo Tu c'è la scala Quanto cado C'è, è vero C'è il magma cube lì in cima No, ma come si fa È impossibile È bellissima sta cosa Non è bellissima per un cazzo Come l'ha detto Ren Mi ha ammazzato Ma io ho piazzato la scala da un'altra parte E ora non ho più la scala Eh, ti arrangi Hai voluto cittare male Io ho pensato la scala giusta Io sto cittando come si deve No, non sto cittando No, cioè, non sto cittando io Scherzo Non sto cittando Tra poco prendo i blocchi E ciao, eh No, non lo farei Io non lo farei mai Lo stai facendo Ma non è vero Non sto facendo niente È solo in cima però Attenzione In maniera legge tu creeper Via Sono morto Ma come? Ma basta Ma che palle Dai, ero arrivato in cima Ma ma non c'ho più l'isola io Come faccio? Ciao ragazzi Ciao Non ho più l'isola io No ragazzi Ho per cui il peggio dopo Ma dai Ma che cazzo di mappa avete scelto? Disgraziati Forse abbiamo Ma Ma Maledetto Non ho più l'isola Non ho più l'isola Come faccio ad andare là? Me lo spiegate? Volo Ma stai dicendo Ma aspetta Ma io ero nel diamante Sì No Marti Che cazzo di percorso stavo facendo finora Ok Perché io non ho più il percorso di lì Quindi mi metto di qua Oh merda Oh merda Cosa c'è qua? No Marti Marti Ma basta sti zombie Ste robe Ma non mi ha preso il checkpoint Ma chi è sta cosa? No raga Io no Io mi riprido Ah no Mette la pioggia Eh no infatti Non è un checkpoint Vabbè io Già che ci sono Continuo da qua No raga ma come cazzo Faccio salire Basta No sto morendo tanto Io ho fatto un casino tutto il tempo Perché stavo andando nella via del lapis Invece io sono un diamante Però tra l'altro nella via del lapis adesso non c'è più un cazzo E' tutto distrutto Quindi come faccio? Che cazzo hai fatto? Il lapis è mio Come il lapis è tuo? No il tuo C'è lo smeraldo Tu c'è lo smeraldo che dove essere Ma il lapis ce l'hanno tutti Eh ma sei un scemo? No la redstone La redstone Ok vabbè Scoposo no Sì Puttana No 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 ma ci sono tre giri da fare No raga Come tre giri No raga Come tre giri oh No raga non è vero Sono in cima What? Sono in cima Come sei in cima? Ho trovato dei blocchi magici E son salito Non puoi oh Io sto spaccando No sono morto Ma che falle Ma in realtà non c'erano regole che dicevano che non si potevano piazzare morti Ma infatti siamo tutti stupidi perché se si possono rompere i blocchi Si possono rompere basta Ok allora usiamo sta cosa che si possono rompere Ecco io intanto vado avanti Ciao No Eren Bella Torni indietro No io sono andato Cos'è sta roba? Ragazzi io mi sono accorta adesso che ero in creative Ok Sta andando tutto molto bene Come si fa a entrare in sta casetta? Cos'è? Potrei lasciare degli ostacoli sul loro percorso È geniale No 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 Tu l'hai detto Si spaccano i blocchi Si spaccano i blocchi È geniale Basta spacchiamo i blocchi Non rompiamo il cazzo a nessuno Ok però troverete delle sorpresine Ma Eren non me ne frega Non te la faccio se la skillet ammazzo Ma no non puoi Per la vita Ma non si può salire altrimenti qua Mi serve il legno Cosa volete scusate Non so se si deve salire Non conosco la mappa L'avete scelta voi Ragazzi se becco sto lucky block sfortunato Io vi ammazzo Ma cosa che c'è dentro questa casetta? Eh devi entrare assolutamente C'è una leva nascostissima Tu devi trovarla ed entrare Ah ok puoi passare da sotto A meno che ho avuto un bel po' di tempo Sì con le monete hai detto Beh in realtà non lo sapevo Quanto? Che vanno andando? Scusa cosa? Oddio cosa c'è? Marci come sei entrato? Eh io adesso sono strane la merda Perché c'è un labirinto qua Sappiate che dovete andare Eren hai dimenticato le cose sugli alberi Ma ve l'ho chiesto se c'erano Mi avete detto di no Basta Io non gioco più con voi Io non ho detto niente Io non gioco più con voi Eh io sono tornato indietro Ok era uno solo il blocco Giusto? No ce ne sono in fondo Ma io ero stra avanti Perché mi avete fatto tornare Oh no no Non voglio perdere ancora eh Dai Vieni qua Martino Vieni qua No Marti vieni qua Vieni qui Forse Spacchiamo tutto Marci non ci provare eh Marci no eh Un beacon Marci no eh Delle ragnatele Marci stammi lontano eh Perché c'è un labirinto di ragnatele ragazzi Marci stammi lontano Ma non è vero Li ho presi tutti Basta con queste mezzogne Marci stammi lontano Ma che fai Ok ecco l'uscita del labirinto O GIGANTE O GIGANTE Eh si è ammazzata da solo Come ha fatto a esplodere Va bene Io non ho l'uscita Ahia Eh te la devi creare mi sa Io non ho più una casa Come me la devo creare? Eh io me la son creata No Ere ma non vale così Ma abbiamo appena finito di dire Ah io sono nella lava Sono morto Va bene adesso io faccio così Ma perché son tornato qua Dai no non si possono spaccare Eh così era Non ha fatto così Eh ma eravamo d'accordo ecco No no raga c'era un posto in punto Che bisogna per forza spaccare Perché c'era un lucky block dietro al muro Esatto esatto No no è vero è vero Eh se no si è squalificata se non lo trovi Quindi devi spaccare Ma cosa? Stati dicendo Raga sono l'unica che ha fatto il labirinto Lo sto facendo anch'io L'ho fatto tutto benissimo Ho trovato anche la leva Anch'io? No sono caduto Ma quindi tu il parkour Cioè il labirinto non l'hai fatto Veramente bene No io l'ho fatto E la leva l'hai trovata? Ehm no Mamma mia che infame Che serio Che infame Il parkour te lo fai da solo Non piace un cazzo Ma Eren mi ha detto che si può Eh infatti Ma cosa? Ma io sapevo così Guarda come stai guardando Ma ormai io l'ho messo Ho rotto la scale Io qua non ho più nulla Lo vuoi capire Vabbè raga Faccio come fate voi sti cazzi No ma io sto facendo bene Dai Ok allora dai Facciamo così Ripristino tutto No da adesso ragazzi Non si possono più usare Va bene Ma io sono andato L'avete trovata la ragnatela? No? Sì Eh infatti Ma è margina quella sbagliata mi sa Non voglio me No non si può Abbiamo appena detto che non si può Allora Che schifo Che fai Cos'è Cos'è questo trash? Ma guarda quanti blocchi ha usato Marci Guarda dove sono Non lo sto usando Guardatemi dove sono stronti Guardatemi e ammiratemi Bastardi Io faccio il parkour onestamente No però io sta cosa non la capisco Cioè effettivamente Se ti danno un piccone Scusa il lucky block ti dà un piccone esatto Perché non lo devi usare? Eh no Ma poi qua non si può saltare Non lo puoi fare il salto Giante dentro di me Guardatemi Hai un gigante dentro di te Come minchia lo faccio quel salto qua? Ma infatti è arrivato in cima a quel salto Come cazzo lo fai? Ma te ne vai a fare Ma te eri in creative prima Ma cosa? Vuoi vedere che lo faccio anch'io? No ragazzi un blocco lo prendo No 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 anch'io lo voglio uno però Uno solo Uno si posa Uno solo Perché dovete Eh ma me lo devo kiffare Non ce l'ho No lo do io aspetta Anch'io Anche a me Che ho messo nella linea di che noia? Due ne ha lei No dammene uno Eren Eren Mi ho preso uno solo io Ahia No che li perdiamo entrambi No li ho persi raga Sono andati Li abbiamo persi tutti Eren Via Mi ho preso uno Spero di arrivare Ma non è vero sono morto Si ma Martina ha lasciato il lucky block sotto Martina l'ha lasciato Eren No No Serio Guardalo Guardalo Chi cazzo l'ha messo? Vabbè ormai sono qua Grandis Eh Eh io prendo altri blocchi Che distribuisco qui equamente Nella chest che ho rotto Per sbaglio Allora niente Sa poco mi chivo tutti quanti i blocchi del mondo E baffanculo Faccio la scala Ma non puoi Non puoi farlo Hai zitto Che è quello che stai facendo tu Ma non è vero Eh no Questo è Ma è È un diversivo Che cazzo è il tuo parkour? Chi va a vincere? Chi va a vincere? Chi va a vincere? Ma cosa? Così in silenzio sei andato a vincere? Ma cosa? Ma quando hai fatto il parkour? Mamma mia Ma te Ma sì Ma non ti abbiamo guardato Io non ci crederò mai Che vittorio del mini No No raga non vai Non dimenticare uno Eh riparlo Eh sì che devo riparlo Però ho finito Cazzo Ma è Ren Eh No aspetta No aspetta Aaaaaaah Voglio morire Muori muori pure Ma Marci Oh Blocchi Mi ha dato i blocchi il lucky block Mi ha dato i blocchi il lucky block Aim for the lava Cos'è aim for the lava? Mi sono messo in creative per venire qua Cos'è aim for the lava ragazzi? Ma Martina è già lì Ha vinto Martina Ma che cazzo No devi fare il parkour Sti cazzi No io Voglio 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 un lucky block Che mi dia blocchi Eh io l'avevo trovato Ma sono morto Comunque dovete spaccare quello in cima eh Io li ho spaccati Quindi vado Ciao Ecco E mo che sono qua Come si fa? Si salta Ma è Ren Dove? No tranquillo Io non sono da nessuna parte Era finito Non è vero Non è vero Non rompere Mi so che qua è ancora Martina Che deve fare la roba Eh ragazzi Io ho finito Però Cosa succede? Ho finito Ah perché qua c'è la pressure Ok ho vinto Non l'avevo schiacciata prima Ok ho vinto Ma tu avevi vinto prima? Si ho vinto io Ma quando? Eh avevi dimenticato il block Eh si io lo sto rifacendo Ho dimenticato solo il lucky block Ah allora non hai vinto Ti devi buttare nella lava e crepare Ah ok È per quello che vi dico di non rifare il parkour C'è scritto proprio di buttarsi nella lava Ah ok ok Dove è la pressure? Oh Riemer da lei Ah ha perso Martina Come ho perso io? Perché ho perso io? Perché sì Perché va così Guarda Arriva anche prima quello della redstone Che non c'è Ha vinto anche lui Ma devo andare Non ci credo Non ci credo Ti ho perso di nuovo Sei arrivata a quarta su tre posizioni Io non ho parole Ma come? Allora diciamo un fatto Io l'ho fatto onestamente Se il lucky block ti dà il piccone No 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 Perché non usarlo? No aspetta 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 Sul fatto del labirinto è vero anche usato il piccone alla fine Però il parkour l'ho fatto decentemente anch'io Eh ma se il lucky block ti dà i blocchi Perché non usarli? Quindi allora il pioneste marce perde Eren Ma perché? Sono arrivato primo? No non è giusto Allora ragazzi Sono arrivato primo Allora ragazzi Ti sei comportato Andiamoci un attimo in game mode 1 E tipizzatevi da me Che guardiamo una cosa Vedete Dove sei? Sono qui davanti al parkour di Eren Notate qualcosa di strano? Guarda No allora ho vinto io No no allora ho vinto io Ti posso assicurare che è l'effetto di un lucky block Io ho spaccato un lucky block No raga no 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 Io ho vinto Sì ma guarda anche che noia Gli ha messi i blocchi anche che noia Guardate Guarda Guarda anche Marci che ha i blocchi in giro No basta ragazzi Io ne ho uno in giro Guarda No e questi cosa sono questi? Questi in cima Eh? Questi qua in cima di chi sono? Eren Poi guardate il mio video Hai perso È inutile No non è vero Sono arrivato primo Sono arrivato primo Eh vabbè Allora visto che non arriviamo mai a una conclusione Che ogni volta vinco Non si capisce come vanno le cose Si fa un'estrazione finale Come al solito Come al solito Mi sono spiegata Devo perdere Ragazzi non ci credete Ma ho il 2 euro dell'altra volta qui vicino Però aspetta Anche tu sei in gioco Marci Eh? Allora facciamo così Tu testa Che noia Croce Se cade di lato io Chi esce perde No 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 Io faccio Faccio il reclamo al Tar del Lazio Io Croce Vabbè io testa Vado Sto filmando Chi esce vince Chi si salva Croce Croce Non ci crederò mai Finché non vedo il video Ho filmato ragazzi Ho filmato Non ci credo Ancora Allora io sono ancora testa Dai Allora erano ancora testa Allora io Croce E per forza Non è che vuoi fare obbligo Vado Vabbè Raga vado eh Croce Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Nella pagina Se volete lo rifaccio Lo faccio girare più volte Ah si si rifai Proviamo perché potrebbe essere uscito male Volevo vedere Aaron cosa dice No ma io faccio così ragazzi Normalmente E' uscito ancora croce Ma vedi la monetina è truccata Sul canale di Aaron arrivate a 6.000 mi piace E' sul tuo 5 E' su quello di Kenoya 2 5 like Ok 2 like Voglio proprio vedere la foto di Aaron Grazie a tutti